Riaperta al traffico a mezzanotte, richiusa alle 5 e mezza del mattino. Un altro stop per l'autostrada A4, chiusa sempre nel tratto tra Latisana e Porto Gruaro, dato che alle 5 e 30 del mattino un camion che trasportava polli ha urtato il New Jersey perdendo parte del carico. L'incidente ha causato anche la chiusura dello svincolo di Latisana verso Venezia. Gli animali sono stati recuperati e gli addetti di autovia hanno provveduto a pulire il manto stradale. Disagi anche nel tratto precedente a tre corsie tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, sempre in direzione Venezia, dove un altro mezzo pesante ha perso il carico di granaglie. Sul posto il personale della manutenzione di autovie per sgomberare la corsia di marcia dal materiale. La A4 e lo svincolo chiusi sono stati riaperti verso le 11 e 30. Il sindaco di Porto Gruaro, anche se precisa che il terribile incidente di mercoledì, quello che ha riguardato l'autocisterna da 42 mila litri di gas non sarebbe stato causato dal restringimento di carreggiata, lancia il suo appello. Qualcosa bisogna fare, bisogna che il campiere inizi e finisca nel più breve tempo possibile. Ministero, Regioni, facciamo tutti insieme qualcosa per risolvere il problema della terza corsia nel più breve tempo possibile, altrimenti i danni possono essere lunghi, duraturi e irreparabili. Il susseguirsi di incidenti in A4 rende insostenibile la viabilità nei comuni attorno all'autostrada. È nato in Tilt Latisana, è nato in Tilt Porto Gruaro, è nato in Tilt San Stino di Vivenza, tutti andiamo in Tilt e quindi aumentano rari rischi di incidenti anche nelle nostre strade.